Buonissima sera cari amici ed eccoci finalmente arrivati a venerdì con il nostro consuetissimo appuntamento con Fabio. Buonasera. Ciao Barbara, buonasera a tutti. Allora dacci ancora buone notizie sull'aggiornamento dei dati Piemonte e Asti. Sono ancora buoni. Sono buone notizie per quanto riguarda la provincia di Asti, anzi Asti è la città più virtuosa possiamo dirla del Piemonte e forse anche una delle più virtuose in Italia. Stiamo andando bene, i dati sono confortanti perché c'è una grande responsabilità personale, abbiamo bisogno di manifestarla sempre. Mi raccomando, molta cautela, molta attenzione, mascherina indossata, distanza e soprattutto chi avesse necessità può andare a fare il tampone perché il tampone oggi è abbastanza disponibile in tutte le farmacie quindi conviene essere molto sicuri per questo abbiamo bisogno di comunicarlo molto bene. E quindi la situazione vaccini? Allora scusatemi mi sono anche perso prima, volevo dirvi che la situazione dei tamponi funziona molto bene, i contagi stanno andando bene, per quanto riguarda Asti abbiamo nessun decesso, abbiamo una situazione contagi di 31 persone quindi un dato molto attivo. Per quanto riguarda i vaccini anche qui Asti lavora molto bene, l'Ansre, tutti i nostri medici, gli infermieri, veramente un grazie a tutti perché si sta facendo un grandissimo lavoro. Siamo arrivati ormai a una situazione di circa 90.000 inoculazioni e ormai 27.500 persone hanno ricevuto anche la seconda dose quindi una copertura molto importante, interessante che riguarda soprattutto come sapete le persone anziane, le persone fascia più debole quindi un grande risultato per Asti. Quindi buone notizie anche per quanto riguarda l'RSA? Anche per l'RSA, noi in questo momento possiamo dare una notizia importante che nei prossimi giorni sarà disponibile e gratuito da parte quindi della Regione il pagamento, disponibile il tampone per tutte le persone, i parenti, gli amici che vogliono regarsi nell'RSA perché l'RSA, sappiate che l'RSA piemontesi ma soprattutto anche quelli astigiani, sono praticamente covid free, vuol dire che tutti i nostri ospiti nell'RSA e tutti i medici, infermieri, le osse che lavorano, i cuochi e tutte le persone che sono all'interno dell'RSA hanno avuto il vaccino. Quindi per chi volesse andare a trovare i propri cari è sufficiente chiedere la possibilità di fare questo tampone, nei prossimi giorni sarà una grande comunicazione e così possono andare a trovare i nostri cari. Un'altra bella notizia arriva da una dose supplementare che verrà fornita al Piemonte di 600.000 dosi di vaccino supplementare che arriveranno da giugno, che si aggiungono già ormai quotidiani 30-35.000 vaccinazioni, quindi siamo molto contenti e soddisfatti perché così facendo potremmo garantire di arrivare come previsto entro l'estate, massimo fine agosto, inizio settembre, e vaccinare tutte le persone piemontese. Cambiando discorso, c'è stato da pochissimo un evento per quanto riguarda Asti e la sua candidatura come capitale europea del volontariato. Sì, una bella notizia, una bella candidatura, i complimenti a tutte le persone che prestano il loro servizio, il loro tempo, che lo sottraggono alla loro famiglia, al loro magari lavoro, per dedicarsi agli altri. Tutti i nostri volontari, veramente il nostro grazie perché mai come in quest'anno abbiamo sentito la loro vicinanza e il loro grande lavoro. Contiamo ancora che lo facciate per i prossimi mesi, ne abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento abbiamo visto che tantissime persone si adoperano per aiutare i centri vaccinali, i centri ospedalieri, quindi davvero un grazie a tutti. Cambiando ancora discorso, questa volta faccio domande più diverse. Ci sono anche novità per quanto riguarda i voucher scuola? Sì, anche quest'anno la Regione mette a disposizione delle famiglie e degli studenti un patrimonio molto importante, circa 20 milioni di euro, che saranno distribuiti alle famiglie che ne hanno più bisogno. Sono soldi che servono per acquisto dei libri di testo, soldi per l'iscrizione e la frequenza, che vengono integrati anche da un contributo statale, non dimentichiamolo, di circa 7 milioni di euro. Quindi le persone che ne hanno necessità e bisogno, come tutti gli anni, faranno la classica domanda, verranno riconosciuti questo diritto che fa piacere perché comunque tutte le persone, tutti i ragazzi hanno diritto allo studio in uguale maniera. Quindi noi siamo vicini anche alle persone che ne hanno più bisogno. Ci sono ancora novità buone per quanto riguarda i bandi, tra cui uno sugli allevatori per il risarcimento dei danni dei lupi. Sì, anche Asti purtroppo abbiamo avuto diversi attacchi dei lupi, sono presenti nelle nostre colline come nelle nostre montagne e abbiamo finanziato un bando con circa 300 mila euro per coprire questi danni. Quindi tutti gli allevatori che sono iscritti, che hanno qualsiasi tipo di animale, quindi ovini, caprini, bovini, equini e anche animali tipo cervidi, per cui caprioli, cervi, hanno la possibilità, se hanno subito un danno da lupo, di essere retribuiti e riconosciuto questo indennizzo. Spiace molto questa situazione, stiamo lavorando anche perché non succeda più, quindi nei prossimi mesi ci sarà anche un bando per l'acquisto dei recinti e dei pastori elettrici per far sì che questi lupi non creino danni agli animali a cui noi vogliamo anche bene. Ottimo. C'è anche un altro bando sull'efficientamento della pubblica illuminazione. Sì, questa è una bella notizia per tutti i nostri sindaci, per i nostri comuni, perché come ormai da diversi anni, anche quest'anno la Regione finanzierà l'illuminazione pubblica, anche perché illuminare con nuove fonti energetiche, per esempio con i LED, vuol dire abbassare il CO2 nella nostra Regione. Questo è molto importante perché come sapete la Regione Piemonte, che è una bellissima e stupenda Regione, che abbraccia dai laghi, le pianure, le colline, le montagne, però ahimè è circondata dalle montagne, quindi da noi non gira tanto l'aria, come si dice, per cui è molto importante abbassare il CO2, anche questo contribuisce. Quindi l'invito a tutti i sindaci che non l'avessero ancora fatto di cambiare l'illuminazione e portare questa innovazione, il bando è aperto. Tante belle notizie, così possiamo anche passare un buon fine settimana, aspettando il prossimo venerdì. Certo, l'appuntamento ormai è una consuetudine, il venerdì sera ci troviamo in questi 5 minuti per raccontarvi quello che abbiamo fatto durante la settimana, per far vedere che la Regione c'è, è vicino ai suoi cittadini e come diciamo ormai da qualche giorno, anche nel modus di operare con i vaccini, abbiamo detto noi non vogliamo portare la gente a fare il vaccino, vogliamo che il vaccino vada dalla gente, tant'è che abbiamo aperto tantissimi hub e ancora oggi abbiamo inaugurato l'hub della famiglia Lavazza presso il loro centro nuvola a Torino, ma tantissimi altri imprenditori astigiani hanno già dato la loro disponibilità, la loro visione, cui ringrazio tantissimo perché anche i privati potranno nei prossimi giorni effettuare i vaccini. Vogliamo ricordare anche il sito della Regione? Sempre, sul sito della Regione trovate tutte le informazioni, questo è molto importante, quindi qualsiasi necessità, non è il caso di sperarsi, ma basta andare sul sito della Regione Piemonte e troverete tutte le informazioni necessarie. Grazie mille, grazie anche a voi, sempre più numerosi, se avete domande o dubbi assolutamente scrivete e al prossimo venerdì assolutamente, ciao Fabio. Grazie, ciao Barbara, buonasera a tutti. Ciao a tutti.